La Salernitana strappa un punto in extremis contro il Pescara nella quarta giornata di Serie B. Alla Reiki granata con modulo camaleontico, l'Itale figura intermezzo tra le due linee con Sprocati e Boccalon. Nella formazione ospite spicca Pettinari, leader del gruppo guidato in panchina da Zeeman. Salernitana che sfiora il vantaggio proprio con il jolly di giornata vitale e Pescara che prova a rispondere con del sole e alla prima vera occasione passa con Capone. Transizione classica per gli adriatici, difesa scoperta e l'esterno d'attacco firma facile facile l'1-0 Pescara. Salernitana sotto all'intervallo con Bollini pensieroso, nella ripresa su sponda aerea Zito svirgola con il mancino e l'occasione del pari viene sprecata da Sprocati, salvata sulla linea di porta. Occasione sciupata e raddoppio del Delfino, tutto troppo semplice anche per Pettinari che firma sotto misura il comodissimo 2-0. Difesa completamente aperta e Salernitana sotto all'Arechi ma che non molla. Sprocati si rifà con gli interessi, girando con il destro una fantastica conclusione a baciare il palo. Granata che accorciano le distanze e sognano il pari culato per tutto il finale e pescato da Minala. Zampata dell'ex Bari e Lazio per l'esplosione dell'Arechi e per il terzo punto conquistato dagli uomini di Bollini, già lanciati verso la trasferta di Vercelli.